Una squadra tarantina di studenti del liceo Battaglini è salita sul podio del P-Day 2021, concorso organizzato dal Politecnico di Milano per la giornata internazionale della matematica. Una competizione a cui hanno partecipato mille studenti da tutta Italia, confrontandosi sul tema dal titolo P-Greco e gli irrazionali. Un gruppo di ragazzi di terza, guidati dal professor Vincenzo Valentini, ha vinto la sezione video animati con un cartone dedicato al numero tanto caro d'Archimede, definito dalla giuria il più originale e ricco di contenuti matematici. Gli studenti hanno dimostrato che nonostante la pandemia che li costringe a stare a casa e a vedersi solo attraverso uno schermo, c'è ancora tanta voglia di stare insieme, mettersi alla prova e divertirsi, magari anche studiando. Agli studenti sono andati anche i complimenti dei professori e della dirigente del liceo, Patrizia Arzeni, secondo la quale le opportunità offerte dalla tecnologia consentono ai docenti di rendere la proposta culturale più avvincente e più efficace per gli alunni in un momento così difficile. Come il passo di metafonto, mediante le spirali. Molte, se non tutte le spirali, dipendono dal P-Greco o dai numeri razionali ed esistono in natura.